Un viaggio tra le innovazioni e le insidie del web è stato al centro dell'incontro del 15 maggio in Sala Argento sul tema La dieta digitale, le abitudini dei nostri ragazzi, organizzato dal Core con Piemonte, Comitato regionale per le comunicazioni. Con il Presidente e la Vicepresidente Bruno Geraci e Tiziana Maglione sono intervenuti il professore Sergio Scamuzzi con i ricercatori Christopher Cepernick e Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino e il coordinatore nazionale del Core con Italia Felice Blasi. Lo scorso anno oltre 500 ragazzi piemontesi hanno compilato un questionario di una cinquantina di domande e lo studio delle loro risposte ha permesso di ricavare uno spaccato sulle loro abitudini digitali e di provare a suggerire proposte per un uso consapevole delle nuove tecnologie ai giovani e ai loro educatori. Credo che questa ricerca sulla dieta digitale dei nostri ragazzi ci abbia svelato un mondo che avevamo intuito ma certamente non avevamo capito sino in fronto. Devo dire che oggi i ragazzi convivano con questa realtà di internet in una maniera profonda, spesso sconsiderata. Pensate che in alcune fasce di età si arriva anche a otto ore di iperconnessione al giorno. È veramente un grande problema educazionale, è una solitudine dei nostri ragazzi ed è certamente un modo di avvicinare la realtà in una maniera sbagliata. Perché sa un bel dire, internet può essere uno splendido strumento per l'approfondimento, per la ricerca, ma certamente non è la conoscenza. La conoscenza è quella terra di nessuno, dove ognuno di noi si deve perdere per poi trovare le cose che cerca. Ecco allora perché probabilmente mettere l'accento su questa nuova educazione ai media è molto molto importante. Il ruolo della famiglia purtroppo è fondamentale, ma ancora una volta vediamo una famiglia poco attrezzata, spesso latitante e devo dire che è qui il succo e il nocciolo della gravità del problema. Cioè abbiamo una scuola che bene o male si è attrezzata, abbiamo istituzioni che bene o male si attrezzano anche loro per seguire questo percorso. Ahimè, la famiglia è spesso la grande assente e devo dire che noi come famiglia, noi adulti, spesso talora utilizziamo internet e la connessione ai social, forse in maniera più disordinata e pasticciona dei nostri ragazzi. Grazie. 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 Grazie.